Cos'hai messo? Hai messo il Love Blades? Ci voleva tanto a dirmi che cazzo non avessi messo No, ok, pensavo parlassi ancora Del verde Ti stavo chiedendo che uno hai messo Tu metto il Resolve Io ti ho detto, no, la Keystone Quello verde, la Keystone Sono scemo, ok, non usare sti termini Madonna Ma senti, mi giuro Mi sembra veramente di parlare altro che con bocelli Porca puttana ragazzi Se vuoi andiamo su CS Ti chiamo i call out e tu non capisci niente uguale Ho capito, ma porca puttana Se giocassi un'ora CS Saprei anch'io cosa sono i call out Ma la differenza tra mette è che io non l'ho mai aperto CS Mentre tu gli GoF Legends Sei al livello 86 Livello 86 vuol dire che per un annetto ci hai giocato O quasi, non so, adesso magari i livelli Fai anche prima, ma almeno un anno ci hai giocato Almeno un anno Non ci hai giocato per essere livello 87 Dovertele un analfabeta funzionale su LOL Ok, Leo ti picchio Ora vengo di là e ti picchio Cioè, ma Che poi, porca puttana Sembrava cosa E vissi chiesto una cosa Una cosa allucinante Ti ho chiesto che run hai messo Tu ti sei impazzito Sei andato in tilt Abbiamo via incontro Sembrava il mio computer quando per sbaglio avevo attaccato L'hard disk e l'SSD insieme con il SATA E tipo, non ci avevo controllato E non capito perché non me lo leggesse Sai di cosa sto parlando almeno? Sì Brava So cosa sono gli SSD, gli HDD E pure le porte SATA Parla più forte che non ti sento Se vuoi faccio un ASMR Ci pensano già i tuoi uccelli a farlo Non c'è problema Se vuoi ti faccio un ASMR col mio uccello Non è quello che intendevo È una proposta molto sensuale Sempre se l'ha lodato a colui che ha l'ho in italiano Rune, si chiamano rune anche in italiano Pensa un po' Bertha è speciale, assolutamente In realtà super sarebbe comunque da maxare la Q su TF Non la V Ok Io fossi in te Andrei con oggetto da support Quello tank a D Vediamo quali prendi Oddio, oddio Eh io ti controllo Io sono la pula qua Come cazzo si chiamano? Steal Arm Guard In inglese Sì, sì, ci stavo arrivando Eise, grazie mille del Prime Benvenuto nella Felix Arnicar No, è la Shoulder Guard Non Arm Guard Mi metti? Sì, la Shoulder Guard Oh, è questo? È un bravo Ecco No, 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 no Mi dispiace ragazzi Non funziona così Ho già stabilito le gerarchie qua Adesso ti faccio vedere io le gerarchie Vai, vai Picchia, picchia Oh no, ma c'è gente C'è tanta gente Scappa T'ho già tirato lì Al flash a prima di Tutto a posto raga Torno a casa Ciao Vai Tranquillo comunque Mentre noi fightiamo I nostri sono andati a invadere Le red buff nemico Ma perché Diana non ci ha seguito? Sono una botte di ferro Era lì Ci ha guardati intensamente Ha detto No No I midlaner di oggi Veramente Bella Perfetto Hanno rubato il red Adesso vanno a gankare Fivano Giusto Povera Fivano Abusatela Abusatela Non ce la fanno Peccato Peccato Era un solidissimo piano Raga non sono partito di E Perché ha detto che sono un po' Con cosa sei partito con la Q? DV doppia Perché? Per la roba che fai le tre botte Ma è la spell più inutile Non ti attiva nemmeno la passiva Sì Ma almeno riesco a fare un po' di dannini Ne avresti fatti di più con la E Mamma mia Adesso ti sfotteremo tutto il tempo Tu lo sai Eh vabbè Ma è giusto Ma è giusto Sull'all ci stai Eh Pronto bravo Lasci in pace alla mia ward Ah è open Ah uh Aspetta Non c'è Perché hai fatto E prendere il caretto Non serve Ho premura Ho capito Ma non devi prendere tutti sti danni Per prendere il caretto Cioè l'avresti preso lo stesso Ma mi piacciono i danni Allora Qua c'è bisogno di un po' un tutorial Eh Lo so ragazzi Non trigger E guarda Hanno cambiato emot Non sei più bocelli adesso No Ah uh Ingaggia 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 Non ho niente per ingaggiare Bravo Su quell'altra No No Ah 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 No Aiuto Ah Yes Cosa mi buildo da support? Faccio la trinity Sì no Puoi farla perché no Ma sì andiamo a prendere Cazzo Avrei voluto che mi aiutasse a pushare Eh no Ho sbagliato io qua Porca troia c'è arrivata Mi sarei Sarei guardato sto cespuglio Sicuro Che palle Non potevo ovviamente Avevo una wave messa a posto No Non potevo Colpa di Bert Adesso lo licenzi Licenzi da cosa? Mamma mia Che tragica Che è questa live Forse è questo il suo fascino Sono tutti abituati a vedere Gente brava Dello alto Invece no Io c'ho Bert Che sta sotto torre a bmare Con i suoi Control 3 Control 4 Tra tutte le cose Che poteva fare Giustamente Non lo paghi Effettivamente Meno male Che non lo faccio Au Mi ha punito Mi scusi signore Lei cosa vuole Dalla mia vita? Dai ti prego Bertra No no sono carne morta Però gli ho fatto Tanti danni Dov'eri tu? Nooo Ho visto Ho visto Ma come fareste senza di me Cazzo Dico io Guarda Guarda Guardalo 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 Nooo Oddio Ce l'ho fatta lo stesso Va bene Ma ha cambiato carta all'ultimo Che culo Oh Che fatica Che fatica Vuoi che mi si pinga di stare attento Ma mettono a guarda il Drake Sei tre livelli sotto di me Sono perma morto Non farti più latrini Fai oggetti meno costosi L'oggetto più costoso del gioco Non lo chiudi nemmeno se ti impegni Faccio latrini ti ho detto Grazie taglio Dieci mesi Ben tornato a Felix Army Signora mi lasci in pace gentilmente Se essi tenuto la Q Potevo ultare Arrivare subito ingaggiando Vai ad aiutare Warwick A fare cosa A prendere schiaffi Io non servo a niente Io c'ho la ulti Dico la ulti Posso arrivare easy Rocco Grazie mille del Prime Benvenuto Benvenuto nella Felix Army Grazie Grazie Spero che live ti piaccia Anche se non so come sarebbe possibile Prendi il caretto Ma non prendere Prendi il caretto senza prendere danni Ce la puoi fare Bravo È felice Sì Bravissimo Importante è questo Diciamo che è una pezza questa Una toppa E diciamocelo a chi non piace la toppa Ti ingaggio vain Oh no aspetta aspetta Sta scendendo Rek'Sai No Rek'Sai è tornato Ah Ci arrivo vero? Eh Non essere dito Peccato Ho ciò che stanno arrivando gli amici dell'Ave Maria qua Siamo in quattro Li tocchiamo Li tocchiamo Li tocchiamo Dai li tocchiamo Se riuscissi Se riuscissi a raggiungerli Mi sa di no Oppala Ok ok Non li ho potuto toccare abbastanza In realtà possiamo continuare a toccarli Guarda che danni gli ho fatto Oddio No No Era Wart Cazzo Lui ha deciso di die var Era Wart comunque Poteva morire Sei al quattro Ci guarda i livelli Mi stronk Mundo Mundo Dovrei giocare in mundo Il cui è quello Potrebbe essere una bella idea Faccio un intero game Giocando a mundo E col portante di totale Tanto il canale è tuo Guarda come qui sei già a mundo C'è una control qua Se vuoi togliere La prima che push Utilizza la A Mi raccomando Così fai prima Resettando l'autoattacco Mi papà Bravo ragazzo Ciao bravo Come chiameremo questo uncut ragazzi Faccio coaching a bambino con l'autismo E Figli di merda Bravo Dov'è finita? Dov'è finita? Sta a zardare Au 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 Mi toccano Mi toccano papà Ah è arrivato anche il rex Sai Mi sacrifico per te Sopravvivi Non sei sopravvissuto Ah C'ho la ulti Torno abbastanza in fretta Che palle Guarda qua Sti jungler qua Ora mi toccano Ora vengono Hanno usato anche le l'erol Mi toccano Mi toccano Vai via da lì Non posso andarmene da qui Come faccio secondo te Se avessi usato la cooper E' morta è morta Ne ho fatto uno E' morta la tizia Bravo Tocca vi tocca vi Dai Mid laner del cazzo Ci sono quasi di ulti Eh non la toccano vi Non la toccano E' arrivata Diana Mezz'ora in ritardo signori Va bene va bene Poco male Madonna Quel rexai non so nemmeno io come è morto Ok peccato per Vayne Ma va bene dai Bertha è il masochismo ludico Hai preso la ulti Sì finalmente ho la ulti Ok Ok Adesso stiamo tranquilli Perché sei lì Yeet Sembrava una cosa divertente da fare Non c'era un vero motivo Chi è che sta arrivando Che ci pingano Warwick ha detto Ciao Si pronto Eh si Eh Ci abbiamo Il signore E i noob in chat In base a come prenderete Per il culo Bertha Capirò chi è dei due Anche se di solito E' camper Quello che viene in live E' palesemente camper E' palesemente camper Giovanni non usa le lune Ah ok E' pure su discord Spostate mi dice Ma aspetta che finiamo la partita Dopo ti puoi aggiungere Se vuoi Tanto gli ho dire Dopo Bertha Penso che chiunque Sembrebbe un pro player Ah che Andrea Non l'hai mai visto Almeno io provo a fare il su Io l'ho visto top Con Blitzcrank Che ha vinto la lane In un uncut Eh Tu con Blitzcrank Non vinci nemmeno Contro il carretto Se vuoi la prossima partita Tra yardo eh Con Blitzcrank Dai per me No non con Blitzcrank Però tra yardo Beh perché anche è successo E' molto alto Da come lo sfoggia Scommetto Ero Ero MGE Un tempo Poi ho avuto a giocare Non ho fatto da anni Ho riacceso l'altro giorno E ho aperto un coltello Quindi tutto a posto E' stata una live Molto positiva L'altra sera Ho aperto 10 euro di cassa E ho trovato 600 euro di coltello XD Bene Quando li venderai Sarà stato worth Per adesso Non è un cazzo Devo aspettare Che diventi scambiabile Poi lo vendo su un sito Au Non lo potevo scambiare Devo essere onesto Allora fammi pensare Noi abbiamo tutte le summoner Non so allora come siano messi Boh Non ho idea Se voglio lo chiedo Oh Ma quella che Oh ma ci sta togliendo la control Ingaggia su Vayne Vai Ultala Vieni da me Bravo Andata andata Ottimo Abusati Ottimo Vieni qui Lo stavo per arrivare Ecco Lo immaginavo Ok Ho visto 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 che sono un pro player Cazzo Bravo Sei bravissimo La Trinity è sempre più vicina Ragazzi State tranquilli Oh Vai Ci siamo ripresi C'ha più farm Ma noi abbiamo il cazzo più lungo Quindi è meglio Questo commento sessista Lo trovo abbastanza Poco adatto Alla piattaforma Ah si Come pippare cocaina Per caso No no Quello si può Scusa Ah quello si può Ok Quello si può Ah ok ok Allora va bene Ecco altri 5 euro mensili Ahmed 4% albertra di questo Sì Visto che capisco La sua demonetizzazione K e K W Certo Ahmed Lo farò Darò il 4% del tuo sub albertra Beh Ci compro le caramelle di lupo albertra Che sono un pasto completo eh Sì 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 Grazie Ahmed Vado a fare un po' di pulizia di world Se non ci sono i nostri amici Ci sono i nostri amici Guardali 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 Ah io non so il flash però Io sì Ma che danni sono Oh mio dio ma c'è anche Rek'Sai Ma what the fuck Ma perché be one shottano tutti Ma è una roba allucinante Non c'è solo il flash però Tra come i bad Lo so è stato un bel flash Lo so lo so Guarda il turno l'ho visto ma Non mi aspetto nulla di che No no è che non mi aspettavo Ci fosse anche Rek'Sai Me l'ero perso Io me l'aspettavo perché Che cazzo camperman c'è spuglio in due Quello c'era però Non mi aspettavo arrivasse fino a lì cazzo Porca puttana Ello Eccolo E lui non è lui Ho anche questi Altri cinque Una porca puttana Cioè si è tipato il top laner Arrivo a ulti Ulti in fronte alla tipa o no? Non lo so Fai quel che ti pare Intanto lui è morto Vai? Ci arrivi? No non ci arrivo È ok Sarei esploso comunque Allora intanto Già che siamo qua Ecco Mad con un altro sub Grazie mille Mad Chi c'è lì Rek'Sai? Non mi sorprenderebbe Back Anzi non vorrei aspettare il livello 11 Ma il fatto che Calma calma C'è il bo... Oh se lo ulti adesso lo killiamo Yeet Ciao Via Che call che ti sto facendo comunque? Che lo dovessi ultare Stai stai Sennò questi ci prendono tutto Magari li baito a venire Non li baito Sì Ho fatto sprecare uno Ho ciò che ti toccano tantissimo Noi avremo Warwick in teoria Però ha fatto il giro lungo Perché sì Au 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 No 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 È un idea del cazzo Fra pello mio È un idea stupida Da È missato pure la cu Au au Quello è l'ulti Ops Cosa è successo? Che dire follettini Follettine Ecco Chi sta tippando? Signori Sivana Sivana si fa cancellare dal globo Ok Ok boys Bravi così cazzo Ecco qua Ho difeso il mio Garen Se lo meritava Del resto lui ha tippato Queste tante volte in bot Per compensare a tutti gli altri Che hanno tippato di continuo No il draghetto No il draghetto Il draghetto Il draghetto un cazzo Il signor draghetto Ma che cazzo Ma che cazzo Ma che cazzo Disinstallate ora Disinstallate ora Per favore Non meritate Tittiri Tittiri Puliamo un po' le ward Niente ward a furire Ottimo Stato un bello steal questo Anche perché ci apre la possibilità Il quarto drag Che è importantissimo Sto steal è stato importantissimo Non ho la unity Andiamo a prenderla Io si Quindi Match fan Very wow Sto uscendo a fare Oh si Si ragazzi Esatto Bravi Così Così Ma perché Cos'è quella ulti Su quel tizio Prendeteve Stava sulle palle Ma come mi hanno one shotato Ma che danni sono Mamma mia Che scarso Questo ADC Ma che cristo Madonna è successo Ah non ho capito Stai facendo una live di video Goal Legends O di un gioco In bianco e nero Mamma mia Ai più morti di me Stai zitto Secondario Vabbè Vado di zoni adesso Così evitiamo che si ripetano Cose del genere Cioè vedi Mi ha ammazzato in mezzo A cinque persone Che stavano facendo Un mordicardo Non so nemmeno Come è riuscita A cliccare su di me Però Vabbè Amin Facciamoci Facciamoci La yomu Ecco guardate Questi sono I pappagali di Bertra E questo è quello Che gli sta per succedere Ecco qua Ecco qua Ecco qua A morte Maldizione Io ho la ulti se vogliamo toccare in modo sensuale Vain Dai varia no però Prendiamo questo e basta Rituris Tudududu Tutududu Tutudu Tuturuturu 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 Il vostro team Ha destruito un turrent Bonk Ma pushiamo mid nel frattempo No 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 Ok un po' di danni Fanno sempre bene Ah e vai Siggiamoli un po' Bravi ragazzi bravi No Stiamo facendo un bel po' di danni rende scherzando Aspettiamo il Drake Dobbiamo giocare così finchè non arriva il Drake ecco Dobbiamo giocare così uguale e sparite tutti dalla lane Esattamente quello che intendevo Eh si dobbiamo giocare così no? Ognuno va per i fatti suoi Esatto Non mi tocchi Non mi tocchi Non le ho dato il consenso Non è la cocchi No Me l'hanno interrotta Yeah assist Ma dio Cristo non ho fatto in tempo Sarei morto uguale Vabbè Attenzione Warwick Vai Warwick la potete killare in due vai E sono in due anche loro Full vita E Garen è un cadavere coi piedi Che missata Addio Eh no niente Adesso Garen muore Madonna mia che idea del cazzo Gesù Cristo Gesù Cristo Hai la ulti? Sì Allora aspetta Andiamo dal Drake Andiamo dal Drake Lascia 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 la wave Andiamo 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 da Draco Eh non l'abbiamo fatto in tempo Potevo ultare Ma non sapevo quanta gente ci fosse Avrei dovuto farlo comunque Peccato Ma hanno Magic Rays Stassi in anno un po' In effetti Niente Dobbiamo aspettare il prossimo Drake Peccato La sola a 25 minuti faceva comodo Andiamo top Andiamo top Andiamo a toccare Giovanna Fai Così La smurfa ultando Ok Va bene De matcha Si è beccato De matcha nella schiena Il Baron Non mi sembra un'ottima idea Abbiamo Diana Bot Dov'è quello? Oddio Garen Sta combinando Sto pirla Incoming E' un bagliato Bravo Spaccate quella puttana No eh No eh Ah Meno male Meno male Oh oh E' arrivato E' arrivato tutto E' arrivato tutto Maddio Potrebbe essere una bella idea Il Baron Adesso non saprei VV signori Pieno di rabbia Oh prendiamoli Non ci arriviamo Niente Esatto Esatto Che rabbia Oddio Tutto a posto Stai per morire Allora riusciamo a stare Due minuti qua A mettergli pressione In mid Per poi andare al drago O mandiamo a puttarne Tutto anche stavolta Oh guardate che ho preso Ok Ok Easy Mamma mia ragazzi Mamma mia La si chiude La si chiude Au Dove vai? Ah Mamma mia Rincasati proprio GG Edz Mamma mia Sto TF Ragazzi GG Ah Siamo fortissimi Bertra Mamma mia Che forza Madonna Madonna Che forza Troppo Edz Troppo Forti Ti do l'honor Anche se non lo meriti Si che lo merito Sono stato un support Mamma mia Che support 8000 gold Hai fatto Dai hai fatto più gold Dell'altro support Guarda il lato positivo Hai fatto anche più danni Dell'altro support Quindi Oh GG Better supper wins Dovresti scriverli Madonna